Denunciamo pubblicamente la situazione iniqua, ingiusta e per alcuni tratti vessatoria nella quale ci troviamo dopo quasi due anni dal licenziamento collettivo che abbiamo dovuto subire e che paradossalmente abbiamo scoperto non essere l'evento peggiore. Sono le parole scurate con cui inizia la lettera che gli ex ricercatori dell'Intex hanno indirizzato al ministro dell'economia Luigi Di Maio e al presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Una situazione di stallo a cui si aggiunge adesso la richiesta ad alcuni di loro da parte dell'Inps di restituire la Naspi, l'indenità mensile di disoccupazione. Una beffa per persone che in questo momento non hanno altre fonti di guadagno. Di fatto persone che non hanno nessun tipo di entrata, quindi né da parte della disoccupazione, della forma di disoccupazione né da parte dell'azienda che ancora ha diverse somme da dover dare ai lavoratori. Quindi lavoratori che non percepiscono nulla oggi sono chiamati a restituire alcune somme. Nessun incontro inoltre sinora con l'assessore regionale al lavoro Mauro Febo che si era impegnato a mediare con le imprese della spesa economica, ad esempio con la tale Salenia, che potrebbero riassorbire i lavoratori. Al momento non siamo stati contattati e neanche convocati. Intanto va avanti il percorso legale negli aule di tribunale? Certo, ovviamente la prima sentenza emessa dal giudice dice che il licenziamento dei lavoratori della Intex dell'Aquila era illegittimo e quindi ha annullato quel licenziamento. Adesso il percorso legale fa il suo iter, è prevista una seconda fase all'interno, sempre nell'ambito del primo grado di giudizio, ci troviamo in quella fase. Grazie.